Hai paura per caso? Ho qualcosa per te! Qualcuno mi copra! Chiamo loro Razio! Uccideteli! Mi segreteli ora! Ma c'è qualcuno che tiene il punteggio? Un'altra parte! Un'altra parte! Ehi, abbiamo un eroe qui! Ah, sai che fa male! Uccideteli tutti! E ho tenuto uno proprio per te! Saresti dovuto venire qui! La pagherai! Qualcuno mi aiuti! Ehi, piangerai prima che ti coziniamo! Ma tardi! Miglioro ogni minuto che passa! La pagherai! 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 un altro che mangia la polvere come a fare un altro soldato No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.